Al primo liceo artistico di Torino è stata inaugurata l'opera visivo sonora Segni per la speranza, realizzata sulla parete est della palestra dell'Istituto Scolastico di Via Carcano, di proprietà della città metropolitana di Torino. È un'iniziativa della Fondazione Spinola Banna per l'Arte, che ha sede nella frazione Banna di Poirino. All'inaugurazione era presente la consigliera metropolitana delegata all'istruzione, Barbara Azzarà. L'opera rientra in un progetto del Ministero per i beni e le attività culturali per la riqualificazione delle periferie urbane. La Fondazione Spinola Banna ha coinvolto nell'iniziativa i giovani che frequentano il primo liceo artistico, nella convinzione che un'opera innovativa e dal profondo significato sociale può contribuire a favorirne l'integrazione civica e la sensibilità nei confronti del bello. Il graffito murale, realizzato sulla parete esterna della palestra del primo liceo artistico, occupa una superficie di circa 360 metri quadrati. La sua ideazione e realizzazione è stata curata dall'artista Giuseppe Caccavale, che ha lavorato con tre classi del liceo. La parte musicale è stata curata da Stefano Gervasoni. Il graffito riporta i testi redati dagli studenti, scaturiti dalla lettura e dall'approfondimento, di scrittori e poeti contemporanei legati alla città di Torino. Siamo qui oggi come città metropolitana per inaugurare questo murales, realizzato dalla Fondazione Spinola dell'Arte, ma in collaborazione con il primo liceo artistico e con i ragazzi del primo liceo artistico, che sono i veri protagonisti di questa realizzazione d'arte, che di fatto rientra anche in un piano di riqualificazione delle periferie. Il modo migliore per poter riqualificare il nostro territorio è proprio l'aiuto dei ragazzi. E quindi per questo oggi siamo qui per testimoniare questo importante momento. Questo enorme cantiere di mio spero che ci sia solo la serietà, ma la grande parte del lavoro è stata una nostra messa a disposizione delle discipline che conosciamo, ma al servizio dei giovani. Ci siamo messi al servizio dei giovani per portare alla luce quello che può essere un tappeto volante incastonato nella città di Torino. Con la scuola e con gli allunni è stato un rapporto straordinario. Spero che questo, come un bocciolo da un albero, da un ramo, possa crescere nella loro esistenza.